eccoci credo che possiamo partire e buongiorno professor chiaroni e benvenuto per noi è davvero un piacere contare con la sua partecipazione all'hackathon hacking the city di tondo io sono francesco fumarola sono tra i cofondatori dell'associazione tondo e mi occuperò di moderare questa parte di speech dell'hackathon una piccola una piccola introduzione dal professore chiaroni e il professore di strategia e marketing al politecnico di milano e anche il cofondatore e vice direttore dell'osservatorio energy strategy quindi assolutamente in linea con le tematiche dell'economia circolare di cui appunto stiamo trattando durante questo hackathon e che insomma protagonizzano l'attività dell'associazione tondo il titolo dell'intervento è lo stato dell'economia circolare in italia luci ombre e prospettive di sviluppo attiene fa parte a un primo studio dell'osservatorio energy strategy e ci racconterà appunto andremo ad approfondire con il professor chiaroni grazie al suo contributo la situazione attuale nel nostro paese di tutte le pratiche di tutte le attività connesse in modo imprenditoriale manageriale di processi all'economia circolare ultimamente ne sentiamo sempre più parlare ultimamente è diventato anche diciamo fortunatamente un tema chiave una keywords e del nostro ultimo periodo e diciamo che ha preso anche parte della grande visibilità che stava avendo invece il tema sostenibilità che è una delle componenti dell'economia circolare e grazie all'intervento del professore capiremo meglio la situazione attuale e diciamo andremo a sfatare tre miti che il professore ci chiarirà nel suo intervento lascio la parola a davide chiaroni e lo ringrazio ancora della sua partecipazione grazie mille francesco per l'introduzione grazie davvero a tondo per l'invito è davvero un piacere per me poter essere qui con voi e condividere un po di riflessioni sul tema dell'economia circolare condivido prova a condividere la la presentazione vediamo se se funziona ecco qua datemi conferma che si veda direi di sì quindi provo a raccontarvi in questa ventina di minuti quali sono dalla nostra prospettiva le luci e le ombre legate al tema dell'economia circolare per farlo vi racconterò i risultati del nostro osservatorio sulle sull'economia circolare osservatorio che abbiamo fatto partire nell'anno 2020 e che abbiamo dedicato ad investigare quanto fosse davvero diffusa l'economia circolare all'interno del nostro paese e perché dico davvero perché uno dei primi che vogliamo sfatare riguarda un po la chiamiamola così equazione tra economia circolare e economia del riciclo a cui ci siamo a sue fatti un po abituati ma che in realtà diminuisce la via portata dell'economia circolare allora per capire quanto davvero si fa economia circolare quindi quanto davvero si riprogettano si ridisegnano prodotti e servizi che siano circolari abbiamo investigato tre macro settori del nostro paese quello delle costruzioni building infrastructure quello dell'automotive e quello dell'impiantistica industriale abbiamo raccolto informazioni legate a quanto fossero le pramie circolari e comprati di economia circolare in particolare ai cicnici ci siamo concentrati su quella parte che riguarda le design for manufacturing al design for disassembly investigando meccanismi di take back cioè di restituzione di recupero da parte delle imprese delle risorse contenute all'interno dei confronti dei clienti sappiamo infatti che in ottica di economia circolare utilizzatore che poi quindi sostituisce forza contenuta all'interno del prodotto al produttore tipicamente la rimette in un ciclo in un ciclo produttivo ecco avendo il nostro paese ci siamo interrogati abbiamo trovato un po di risposte a queste domande cominciamo da qualche luogo eccomi scusate sono ritornato un piccolo problema con la la rete datemi conferma che mi sentite in questo momento la sentiamo grazie perdonate non so cosa sia successo riprendo da qua quindi se guardiamo alle diffusione dell'economia circolare proviamo a dare una connotazione positiva ecco vediamo che la larghissima parte del campione che abbiamo intervistato ha adottato almeno una pratica di economia circolare sono soltanto diciamo il 6 per cento del totale quelle che non hanno adottato pratiche e non hanno intenzione di adottarle in futuro c'è un 6 per cento che non l'ha adottata invece però ipotizza di volerla adottare nel prossimo nei prossimi anni quindi sostanzialmente tolto questo 6 per cento di assoluti scettici sull'economia circolare c'è un'ottima predisposizione da parte del nostro sistema industriale anche in un settore così particolare come quello delle costruzioni la strada però è ancora lunga abbiamo chiesto alle imprese di identificarci la loro percezione di distribuzione rispetto all'economia circolare in una scala da 1 a 5 quanto vi sentite circolari e per quanto quindi a che punto no di sviluppo della circolarità pensa di essere arrivati e come vedete ci sono a metà strada quindi le aziende stesse riconoscono di essere a metà strada all'interno del percorso dell'economia è detto diverso tempo fa quindi diciamo se vogliamo un po' prima che l'economia circolare diventasse un qualcosa poi effettivamente di moda se entriamo più nel dettaglio e andiamo a vedere che pratiche dell'economia circolare sono state messe in atto dalle imprese ecco che si fa un pochino meno positivo perché guardate questa linea discendente che si vede molto bene in questa slide tantissime imprese hanno fatto pratiche di design per l'ambiente quindi hanno introdotto i loro prodotti, i loro processi produttivi soluzioni che tritassero l'occhio al tema della riduzione delle emissioni al tema dell'utilizzo di materiali più ecocompatibili eccetera eccetera un po' di imprese il 58% ha messo in atto azioni che riguardano il recycling e quindi disegnano i loro prodotti riciclabili ma qua vedete il drop significativo all'interno di questa linea di percorrenza delle pratiche se passiamo dall'ambiente sostenibilità intesa in senso lato al riciclo e ci muoviamo invece le pratiche che sono più proprie dell'economia circolare il riuso, il rimanufaccio che quindi richiedono di assemurare facilmente riscomporre il prodotto nelle sue componenti, nelle sue risorse originali e anche il riportare a casa il prodotto il ritornarlo in possesso una volta che ha terminato il suo ciclo di vita nelle mani del cliente ecco che l'insieme di pratiche scende l'adozione delle pratiche scende drammaticamente e allora come ha spesso accade nei progetti di innovazione è vero che siamo a metà del guado ma la metà che ci resta ancora da mettere in atto è quella più complicata perché è quella che interfaccia l'utente finale, il cliente è quella che interfaccia o ricostruisce un ecosistema qual è la spinta verso l'economia circolare? beh chiaramente c'è un tema di incentivazione dobbiamo dire con grande chiarezza le imprese che hanno adottato pratiche di economia circolare dicono che tra gli enabler quindi gli abilitatori all'evoluzione verso l'economia circolare c'è una... c'è... l'azione è che infatti da che cosa è bloccato? è dai costi di investimento, dalle tempistiche di realizzazione cioè dal fatto che per mettere in atto un'evoluzione circolare ho bisogno di tempo ho bisogno di tempo perché la circolarità diventi efficace se io voglio rientrare in possesso del prodotto una volta che l'ha utilizzato il cliente comincio oggi anche con un prodotto a diciamo facile riassortimento comincerò a vedere i primi prodotti rientrare magari fra un paio d'anni e quindi è chiaro che la prospettiva che devo assumere quando faccio interventi veri l'economia circolare è una prospettiva di lungo termine e questo indubbiamente paventa indubbiamente richiede una commitment da parte del management molto forte e richiede anche un quadro regolatorio che sia chiaro e il più possibile per permettermi di pianificare questo intervento abbiamo dato un occhio al mondo del settore delle costruzioni se allarghiamo la visione anche agli altri comparti ci rendiamo conto che più o meno l'automobile sta ad oggi un passetto dietro però anche qua vi rendete conto come con la parziale esclusione dell'identistica industriale dove il sistema dell'utilizzo del sistema del sistema di pay per use anche grazie all'efficientamento energetico sono diventati un pochino più comuni quindi in larga parte del nostro settore produttivo l'economia circolare è ancora legata all'utilizzo di materiali il secondo grande mito da sfatare il secondo grande mito da sfatare riguarda il fatto che l'economia circolare abbia l'idea di questa impresa che controlla tutta la filiera controlla tutto il ciclo fino in fondo ci riappropria dei beni che sono stati tutti i beni li riusa, li rilavora e come dire diventa un un attore sì grazie mille provo a riprendere da questo punto tra l'altro ringraziando e scusandomi per l'inconveniente tecnico tema dell'ecosistema direi che l'abbiamo affrontato anche in questa nella presentazione che nel frattempo avete visto perché l'ecosistema è il connettore all'interno del meccanismo dell'economia circolare e su questo ecosistema soprattutto sull'ecosistema delle piattaforme ricordiamoci che la gestione dei flussi di materiali di prodotti che stanno attorno al concetto di economia circolare necessitano di punti di compensazione e quindi l'importanza del creare degli attori intermedi che connettono fra di loro le filiere le diverse realtà dell'economia circolare sono un tema particolarmente particolarmente importante così come è un tema particolarmente importante la normativa oggi quando noi vogliamo mettere in atto sistemi di economia circolare spesso ci scontriamo sul fatto che la normativa definisce che cosa è e che cosa non è rifiuto che la normativa ci permette o non permette di riutilizzare prodotti a determinate caratteristiche condizioni che non permette di recuperare il prodotto dai clienti finali per farvi un esempio molto semplice ma che secondo me rende molto bene l'idea se voi restituite per esempio una capsula di caffè usata all'interno di una busta chiusa questo può essere considerato un meccanismo non è un rifiuto è una possibilità di interconnessione tra il cliente e il produttore se invece voi la riconsegnaste in un sacchetto e per sacchetto intendo a forma di borsa ecco che invece quello si configurerebbe come un rifiuto cioè per dire a che livello può arrivare la complessità della normativa e differenziare tra una condizione che permette di attivare l'economia circolare e una che non lo permette quindi quando pensiamo a soluzioni di economia circolare facciamo attenzione anche al quadro normativo un quadro normativo che è ancora un po' schiacciato verso il mondo del riciclo e non verso il mondo del ripensamento e della riprogettazione c'è stato uno sviluppo interessante soprattutto a livello regionale vedete alcune delle nostre regioni che si caratterizzano per un certo livello di sviluppo anche legato alla tuttora normativa dell'economia circolare è un percorso in evoluzione faccio un ultimo passaggio negli ultimi 5 minuti che è ragionando da ingegnere gestionale quindi provando a dare una connotazione economica quindi prescindendo per un attimo dagli aspetti di natura impatto sostenibilità perché l'economia circolare dovrebbe essere un'economia da perseguire bene noi abbiamo provato a fare questo questo conto e ve lo condividiamo abbiamo preso i settori che abbiamo visto prima partiamo da quello delle costruzioni un settore che nel nostro paese vale valeva nel 2019 quindi in un anno senza il covid che forse come dire è un anno più normale da prendere come punto di riferimento valeva 129 miliardi di euro di fatturato di valore della produzione di questi 129 miliardi di euro di fatturato ce ne sono 123 di costi se applichiamo l'economia circolare e andiamo a guardare i report della fondazione del mercato di McKinsey di Sun che ci raccontano quanto potrebbe essere il risparmio in termini di risorse necessarie per soddisfare la domanda connesso all'economia circolare ci troveremmo di fronte a potenziare i risparmi nell'ordine del 27 33% tradotto in vil denaro vorrebbe dire vorrebbe dire introdurre risparmi nell'ordine dei 37 miliardi di euro questo ovviamente è un potenziale teorico la completa adozione dell'economia circolare all'interno del settore delle costruzioni nel nostro paese bene ma se anche ci discostassimo da questo valore teorico e volessimo provare invece a dare una stima un pochino più attendibile da qui al 2030 considerando una certo sviluppo di adozione dell'economia circolare all'interno delle imprese ecco che i numeri scendono ma sono sempre dell'ordine dei 9 10 miliardi di euro se riguardiamo complessivamente all'interno del eh nostri tre grandi settori che abbiamo analizzato le costruzioni le automotive livelli impiantistica vorrebbe dire ragionevolmente da qui al 2030 applicando azioni di economia circolare portare a risparmi nei costi di produzione nell'ordine dei 14 miliardi di euro prendiamo la prima di queste colonne quella che ci dice lo scenario diciamo più più eh raggiungibile quindi una parziale adozione di economia circolare questi 14 miliardi di euro sono il controvalore economico del controvalore ambientale di sostenibilità del ridurre il consumo di risorse associato al fabbisogno di costruzione e sono valori importantissimi dal punto di vista della della contropartita economica allora capite che c'è anche un certo stimolo una certa azione verso questa eh sviluppo dell'economia ho dato un'ultima luce nel minuto che mi resta butto un'ultima ombra però perché qualcuno si potrebbe chiedere ma quindi va bene deve cambiare la normativa ci deve essere un ecosistema un po' diverso le imprese si devono muovere verso pratiche dell'economia circolare che siano un pochino più profonde rispetto a quelle che hanno ora però il premio la ricompensa in fondo a questa partita è una ricompensa estremamente significativa perché non siamo ancora lì perché non tutti stanno facendo le corse per arrivare all'economia circolare ci sono due aspetti sui quali riflette il primo è quello degli investimenti e quindi della necessità di anticipare i soldi per investire in nuovi processi nuovi prodotti nuovi ecosistemi prima di ottenere i benefici ed è qua che la parte pubblica il sistema di incentivazione deve attivare l'investimento deve abilitare un investimento che poi ha una ricaduta ma c'è anche un altro aspetto un pochino più sottile attenzione che quello di cui abbiamo parlato è il beneficio netto per il sistema ma questo beneficio netto per il sistema non si distribuisce in maniera equa tra tutti i soggetti che appartengono a questa filiera quindi ricordiamoci che nel passaggio da economia lineare a economia circolare il sistema complessivamente ci guadagna ma alcuni degli attori che fanno parte della catena lineare si trovano spiazzati un esempio su tutti se parliamo dell'automotive in un sistema puramente circolare il mercato dell'usato non esiste perché l'auto una volta che ha finito il proprio impiego in un nei pressi diciamo nelle mani di un utilizzatore cliente viene rimessa nel sistema produttivo che la può riutilizzare da un'altra parte la può smembrare per ottenerne le componenti necessarie per fare nuove auto eccetera 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 ecco in questo sistema circolare c'è un vantaggio economico nel risparmio di materie prime e di lavorazioni connesse al sostenere la domanda di auto ma il venditore di auto usate si trova completamente spiazzato e quindi evidentemente c'è un aspetto a cui fare attenzione che l'economia circolare non è necessariamente win-win ha un vantaggio complessivo per il sistema economico ha un vantaggio complessivo per l'ambiente del pianeta ma c'è bisogno che gli attori si riconfigurino all'interno di un sistema circolare ed è evidente che a questa riconversione degli attori dobbiamo prestare particolare attenzione perciò e concludo nel buttare quindi suggerimento rispetto a chi si sta lanciando in questo hackathon nel ragionare sulle soluzioni prestate anche attenzione agli impatti negativi che queste soluzioni hanno sugli attori lineari della filiera perché in qualche modo di questi attori o la parte pubblica o la parte privata si deve fare carico soltanto in questo modo e quindi facendo sì che il sistema si adatti all'economia circolare saremo in grado di averla davvero come una realtà nel nostro sistema economico e non solo altrimenti il rischio è che si trovano più oppositori che persone disposte a investire in questo ambito ho terminato Francesco perdonatemi ancora il problema no ma non c'è capita non c'è si è sentito benissimo abbiamo risolto tutto grazie mille professor Chiarogne per l'intervento e anche per rimanere nei tempi e mi sembrava assolutamente come posso dire tutto interessante e tutto molto approfondito io le farei un paio di domande sempre insomma così un po' un po' bruciapelo ma anche a caldo anche un po' a sentimento ci discostiamo un attimo dall'analisi sistemica dall'analisi basata su tutta una serie di ricerche di dati e andiamo un po' nelle sensazioni del professor Chiarogne dove tira la sua simpatia perché cosa ha più simpatia a caldo ha parlato di un tema molto importante che è quello che sta riconfigurando un po' tutto l'ecosistema che è quello dei fondi dell'Unione Europea quelli dei fondi su scala nazionale comunque dell'impegno che a livello globale le istituzioni la politica e l'amministrazione sta riversando su questi aspetti affinché si possa diventare davvero innovativi e si possa diventare davvero circolari quali potrebbero essere uno, due, tre diciamo trucchetti affinché questi fondi vengano davvero utilizzati bene vengano orientati bene vengono configurati non ci siano sprechi non ci siano come posso dire poi rivoli che vadano persi o nell'incompetenza o peggio nelle cattive intenzioni di ricettacoli di interessi privati accidenti Francesco questa è una domanda a caldo molto complessa però prova a darti appunto le mie sensazioni quindi non la ricetta perfetta ma un po' di sensazione no no assolutamente la prima risposta che ti darei è guardiamo davvero al modello dell'economia circolare quindi la manutenzione il riuso il remanufacturing vengono prima del riciclo quindi ragioniamo su strumenti che davvero interconnettano fra di loro filiere e permettano di mantenere viva la materia prima la risorsa per un tempo più lungo quindi ragioniamo in maniera attenta all'indirizzo dei fondi e premiamo quelle soluzioni che sono davvero circolari quindi che creano loop connessioni tra filiere diverse con l'obiettivo non soltanto di recuperare il fine vita ma di riutilizzare durante la vita questa credo debba essere la prima grande la prima grande ricetta e la seconda grande ricetta che è un po' quella che spesso facciamo fatica a fare ma insomma da ingegneri direi è un po' il vero cruccio di questi sistemi misuriamo quello che succede nell'economia circolare io vi ho fatto vedere alcuni numeri ma si può davvero valutare l'impatto delle azioni e allora siccome il tempo che intercorre tra quando io ottengo l'investimento e quando comincio magari a vedere dei risultati non necessariamente è così breve è importante che il sistema di finanziamento accompagni attraverso meccanismi di misura di controllo effettiva realizzazione di quello di cui si è parlato quindi del progetto che è stato finanziato con magari un meccanismo di premialità o di ovviamente penalità nel caso in cui questi risultati che erano stati sulla carta identificati che avevano ottenuto quindi l'ok non si siano realizzati capisco che sia magari una posizione anche un po' complessa da sostenere ma penso che sia il modo migliore per garantire che effettivamente queste risorse poi non si non si disperdano in utilizzi che non sono davvero circolari perché oggi diciamo tutto è circolare tutto è sostenibile tutto è smart quindi il rischio poi di appiccicare il concetto di circolarità smart o sostenibilità un po' a tutte le azioni c'è dietro l'angolo e credo invece che se vogliamo che i risultati vengano si debba stare ben attenti a questa cosa perfetto le pongo l'ultima domanda flash se è possibile rispondere in 30 secondi o altrimenti ci dà una risposta flash e poi cercheremo di approfondire nei prossimi eventi nelle prossime collaborazioni mi interessava molto mi ha colpito molto il focus sulla parte attuale di sistema ovvero come proteggere cercare banalmente come salvare caprecavoli nel senso favorire la circolarità non abbattere gli attori della linearità come possiamo tutelare o come possiamo ovviare i problemi che l'implementazione del sistema circolare comporterà inevitabilmente facciamo un esempio sui venditori di auto usate 30 secondi il vero tema è capire che l'economia circolare sposta il valore vicino alla domanda noi siamo un paese con tanta domanda e quindi c'è la possibilità di costruire più ricchezza di quella che perdiamo e questo secondo me è il punto di partenza dal quale attivarsi per fare in modo che di questa maggiore ricchezza tutti gli attori siano parte attiva bisogna mettere a punto processi di ridefinizione delle competenze degli skills perché per esempio quel venditore di auto usate potrebbe diventare facilmente un'officina a servizio della manutenzione di auto esistenti o potrebbe fare alcune attività di riconfigurazione è chiaro che deve cambiare un po' il suo mestiere però può darsi che abbia alcuni asset i spazi alcune risorse le competenze e altre cose che potrebbe mettere al servizio di questa trasformazione bisogna pensarla per tempo bisogna guidarla e non lasciare che sia come dire una transizione disordinata perché altrimenti le cose non si sistemano ma c'è lo spazio per poterlo fare perché appunto la creazione di ricchezza complessiva è più alta e quindi come dire c'è anche la possibilità di incentivare questa trasformazione stai in muto Francesco eccoci perfetto professore la ringrazio tantissimo anche di questo avviso ma a parte gli scherzi dell'intervento molto interessante e complessivo e anche con lei mi auguro di ritornare presto a poter collaborare e approfondire su studi e collaborazioni con la nostra attività con l'associazione Toando le auguro un buon proseguimento di giornata e a presto grazie grazie davvero anche a voi per l'invito e buon lavoro grazie mille